Il Bayern Monaco, finalista alla passata stagione, ritrova il Valencia che nel 2001 gli portò fortuna a San Siro e prenota un posto agli ottavi in caso di vittoria. Al Maestàia c'è voglia di rivincita anche se una gara del girone non potrà mai cancellare la finale persa ai rigori 11 anni fa. Bayern e Valencia sono appaiati in testa al gruppo F con 9 punti, chi vince passa, chi perde invece dovrà lottare fino alla fine. A settembre all'Allianz il Bayern si impose 2 a 1 e da allora il Valencia ha ceduto il passo in campionato, ma ha anche esso consapevole dei rischi che corrono i bavaresi. So che il Valencia ha sempre avuto una grande squadra, è sempre stata una delle prime quattro in Spagna, per questo domani credo che vedremo una gara tra due squadre molto organizzate. Il Valencia ha sconfitto il Bayern solo una volta in otto precedenti, ma l'attaccante paraguaiano Nelson Valdés crede che il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo. Le possibilità di battere il Bayern sono le stesse ogni volta in casa, la Mestaia andiamo forte, della nostra arma in più. Non abbiamo ancora perso in casa quest'anno e vogliamo continuare la striscia di risultati positivi, giocheremo per vincere. Nell'altra gara del Girone, in caso di pareggio a Valencia, i bielorussi del Bate Borisov possono rosicchiare terreno con una vittoria casalinga contro il Lille, ancora senza vittorie. Gli uomini di Viktor Gonkerenko all'andata si sono imposti 3 a 1 in Francia. Nella peggiore dell'ipotesi, persino un pareggio potrebbe garantirgli un posto in Europa League. Nella peggiore dell'ipotesi, persino un pareggio potrebbe garantirgli un posto in Europa League.